Sush! Bella a tutti ragazzi! Eccoci con questo video commento del giapponese All You Can It, mangiato da mille accendini, presa l'ispirazione chiaramente dai famosi video di magnata di sushi di Marco Togni che vive in Giappone e ci propone ogni giorno delizie di qualità mangiate con gusto che portano migliaia di visualizzazioni. E allora mille accendini ha pensato se lo fa Marco Togni perché non lo posso fare anch'io? Ma io ho fatto diciamo la versione povera. L'ho stato a mangiare adesso e con il mio cellulare Samsung Galaxy S6 mentre cammino per fare la digestione sto caricando questo video che aiuterà a ripagare la spesa sostenuta per provare per voi questo All You Can It a 12,90 euro il sabato a pranzo invece durante la settimana 11,90 euro mangia tutto quello che vuoi bevande e scuse. La qualità non era sicuramente il massimo avendo io provato tanti sushi sia in Italia che nel mondo però che cosa volete? In Italia stiamo e allora voi in qualche modo potete sostenere l'alimentazione di mille accendini mettendo un pollice in su o un pollice in giù. In particolare io con la votazione tendo a sapere quanti di voi sono disposti a finanziare un mio viaggio per andare a mangiare il sushi con Marco Tony. Metti pollici in su se non hai nessuna intenzione di donare soldi a mille accendini per andare in Giappone a mangiare il sushi con Marco Tony. Metti pollice in giù se al contrario deciderai o hai intenzione in futuro di donare almeno 5 euro per andare a mangiare il sushi a Tokyo. se invece hai delle intenzioni di donazione moderata tipo intorno a un euro o anche meno o comunque meno di 5 euro allora non lasciare nessun commento. Io conteggiando i numeri di pollice in su e nessun voti quindi nessun pollice in su e nessun voto io riuscirò a capire quanti di voi hanno intenzione di finanziarmi in futuro quando mi chiederò proprio di mettere mano al portafoglio e quindi in questo modo capirò il budget stavo pensando a un biglietto all'Italia e sapete che costa il volo diretto quindi ragazzi andiamo, polliciate con i pollici, non mettete pollici in su perché quello vorrebbe dire nessuna donazione e questo non lo ritengo accettabile dopo che io mi sacrifico per voi ogni giorno a caricare i video, video oggi, video domani oltre la banda che chiaramente consuma ma anche l'impegno che ci metto dietro deve essere in qualche modo chiaramente. Quindi mi raccomando ragazzi pollici in giù per indicare che volete donare oltre ai 5 euro, nessun pollice invece per piccole donazioni magari ricorrenti di un euro al mese, 50 centesimi al mese per finanziare così il passo di sushi a Tokyo di Villa Cine. Vi chiedo nei commenti invece di indicarvi se vi piace questo genere di video e se siete disposti appunto a supportarlo in futuro. Sorrido sempre, ciao e buona giornata a tutti ragazzi!